Il bilancio fino ad ora è che abbiamo assistito a manifestarsi della incapacità di questa maggioranza di governare Regione Abruzzo, di organizzare i lavori del Consiglio regionale, di organizzare i lavori nelle commissioni, di non avere nessuna risposta a tutti i provvedimenti che sono stati portati in commissione in questi giorni. Noi abbiamo partecipato alle commissioni facendo domande, cercando di approfondire alcuni argomenti, tra i quali anche il referendum incostituzionale sulla legge elettorale, ma da parte della maggioranza anche da parte dei proponenti i provvedimenti non c'è stata alcuna risposta. In alcuni casi gli uffici non sono stati neanche convocati per rendere chiarimenti, in altri casi come oggi in commissione di vigilanza gli uffici non si sono presentati nonostante l'invito del Presidente Smargiassi. Si sta manifestando tutta l'inadeguatezza di questa giunta regionale e in particolare da parte della Lega. Il Movimento 5 Stelle come si appresta ad affrontare l'inizio della seduta in aula? Beh intanto vediamo quando inizierà perché tra le varie cose questa maggioranza ha anche tentato di comprimere il diritto dell'opposizione anche di discussione del referendum sul quesito della legge elettorale. Noi abbiamo tentato in tutti i modi insomma di approfondirlo. Si sono un po' inaspreti i toni devo dire nel momento in cui abbiamo visto un'estrema rigidità inspiegabile e inspiegata da parte della maggioranza. Faccio presente ad esempio il collega Giorgio Fedele non ha potuto depositare 30 emendamenti di merito su un provvedimento perché è arrivato con 15 secondi di ritardo nel momento del deposito. A me è stato rimproverato invece il fatto che per 4 minuti di ritardo, quindi troppo pochi, ho aperto e chiuso una commissione quando in realtà è un fatto che è già avvenuto in passato. Io mi ricordo, se lo ricorderanno tutti, il presidente Merito Chiodi nella passata legislatura ha chiuse una commissione bilancio approfittando della momentanea assenza del presidente di commissione di Nicola. Oggi a me mi si rimprovera un fatto di straordinaria gravità quando in realtà è la prassi. Quello a cui si sta assistendo in questi giorni è che quando si passa dall'opposizione alla maggioranza e in questo caso mi riferisco soprattutto a Forza Italia e quindi anche purtroppo al presidente del Consiglio, sospiri, si cambia atteggiamento e cambia la visione su quelle che sono le regole e le interpretazioni del regolamento del Consiglio regionale.